Si sgancia Muriel, cerca un colpo di tacco improbabile per sviluppare l'azione della Sampo, occhio a Icardi che va via Arano, occhio a Icardi, si vola verso Viviano, ancora Icardi in area di rigore, calcia col sinistro! Mauro Icardi probabilmente chiude la partita con il gol del 3 a 0 al minuto 73 e sono 11 in campionato per Mauro Icardi. E' pronto Adnan su calcio di punizione, Alia Adnan, 0 a 0, Tinese 1, la firma di Alia Adnan! Una punizione calciata con la rabbia da parte dell'Iriacheno. Non c'è fallo, secondo l'arbitro, la parla dentro per l'Axalte, ancora con il bancino, Carnedis, l'Axalte per Rigoni! Moretti profondo a cercare Belotti, ancora Belotti potrebbe calciare, perde il tempo, poi il pallone in mezzo, il sinistro da parte di Baselli. Non facile al volo, palla che si perde a fondo campo. Maxi Lopez contro Belez, parte Maxi. Cigarini dentro il pallone da parte di Gomez che poi prova a colpirlo anche di testa. Tutti questi giocatori offensivi, è molto sbilanciata l'Atalanta, infatti c'è spazio per la Fiorentina. Posizione regolare per Teio, Teio! Alla fine sulla ribattuta di Sportiello, trova la... La battuta di Marchisio, la testa di Pogba! E poi da sottomisura, la conclusione di Evra. Fares, il cross per Pazzini! Con la deviazione, 2-0 Elias! Prima Toni, poi Pazzini! Entrambi seguono quota 5 in questo campionato! Dionisi, uno contro uno di Dionisi. San Marco, Dionisi, il triangolo con San Marco che può crossare, palla dentro! Maikon, corto per Nainggolan, cerca il cross, palla dentro, il colpo di testa di Struna, su Maikon, la mette in mezzo! Dzeko! Parte Keita, finta la battuta di Piani, c'ha giro, palo pieno! Adalastra ha battuto ma si continua, ci prova Digni!